Joseph Ratzinger continua a essere un maestro e un interlocutore amico per tutti coloro che esercitano il dono della ragione per rispondere alla vocazione umana della ricerca della verità. Sono ancora una volta parole di stima e di affetto quelle che il Pontefice ha rivolto al Papa Emerito. L'occasione è stata l'assegnazione dei premi conferiti dalla Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger Benedetto XVI nella Sala Clementina. Il Pontefice ha invitato tutti a proseguire nella missione di servire la verità, nella consapevolezza che la verità di Cristo non è per solisti ma è sinfonica, richiede collaborazione docile e condivisione armoniosa. Rivolgo insieme a voi un pensiero affettuoso e intenso al Papa Emerito Benedetto. La sua preghiera e la sua presenza discreta e incoraggiante ci accompagnano nel cammino comune. La sua opera e il suo magistero continuano ad essere un'eredità viva e preziosa per la Chiesa e per il nostro servizio.